Benvenuti a tutti, sono Alessandro Passerello di Blender Italia, chiaramente le presentazioni sono d'obbligo. Porto anche quest'anno Blender Italia. Blender Italia è prediente, in pratica, è una community nata spontaneamente nel 2002 e unisce appassionati, professionisti e non professionisti in un unico ambiente. Come tutte le comuni online necessita di collegare gli utenti per supportare, condividere, divulgare contenuti eccetera. Per fare questo utilizza degli strumenti. Lo strumento principale utilizzato da Blender Italia è il sistema sito con tutti quelli che sono i moderni sistemi social per quanto riguarda le varie novità social, quindi tutti i vari canali social, tra il quale è stato aggiunto da poco anche Twitter. Abbiamo scelto il sistema sito, faccio una panoramica su quelli che sono gli strumenti per spiegare Blender Italia per chi non dovesse conoscerla. Abbiamo scelto lo strumento sito perché ci permette la customizzazione, quindi possiamo scegliere di implementare o cambiare, variare tutte le varie cose da offrire agli utenti. Bene, questo meeting al quale seguiranno altri meeting nei vari anni qui sempre ad Amsterdam ha il compito di spiegare cosa è stato fatto per la community, quindi cosa è stato fatto per migliorare gli strumenti offerti alla community. Quindi ogni anno noi che cosa faremo? Faremo una rapida carrellata su quello che è stato fatto durante l'anno e su quelli che sono gli sviluppi futuri della community. Allora, quest'anno è stato fatto sicuramente un miglioramento generale alla grafica del sito. Quindi parlando di usabilità abbiamo, prediente, migliorato tutta quella che è l'interfaccia per permettere agli utenti storici ma anche gli ultimi registrati avere un sistema sito sempre moderno, sempre più facile nell'utilizzo. Quindi abbiamo migliorato i menu che erano abbastanza complicati e altri sistemi. Abbiamo implementato all'interno di Blender Italia un sistema corsi. Ricordo a tutti che Blender Italia ha come scopo principale quello di supportare gli utenti che arrivano in community, quindi supportarli nell'imparare nell'imparare Blender nella maniera più semplice possibile. Siamo un team in generale, tutti quanti possono collaborare a supportare un amico che vuole imparare Blender, ma come sistema sito chiaramente non è solamente supporto, ma è supporto quindi anche corsi, la possibilità di collegare con la chat, tutti questi sistemi anche social che permettono agli utenti e la community di poter entrare in contatto tra di loro. Questo per noi è molto importante perché uno dei cardini principali di Blender Italia, sono tre fondamentalmente, che sono l'autoformazione, quindi impare e condividi quello che hai imparato, ma soprattutto la condivisione, questo è fondamentale. Io personalmente sono un sostenitore della condivisione, in quanto la condivisione, converranno, è il sistema migliore per poter crescere. Quest'anno per la prima volta abbiamo sostenuto un progetto, non è un progetto chiaramente di Blender Italia, è un progetto esterno, è anzi un vero e proprio film, un corto che è stato realizzato con Blender Italia, con Blender Italia, Blender Italia ha supportato, per quello che è stato possibile, ha supportato con un sistema di fan club il film che è stato prodotto dalla Med, distribuito in Italia, un bellissimo film personalmente, un commento mio personale. Chiaramente se noi come Blender Italia riuscissimo a entrare prima in contatto con queste realtà che lavorano con Blender in Italia, si potrebbe avviare ovviamente un sistema anche migliore. Quest'anno è stata la prima volta che come community abbiamo supportato questo film, questo prodotto. Speriamo come staff che si possa entrare in contatto con altre realtà che lavorano in Italia con Blender per supportarle, per riuscire a livello comunitario a divulgare il prodotto, riuscire a commentarlo, a farlo conoscere a tutti quanti. Abbiamo avuto come sistema, abbiamo avuto un buon sistema, abbiamo sponsorizzato Gattacenerentola su tutti i canali possibili che noi abbiamo, quindi da Facebook a Twitter, il sistema sito e quant'altro. Ok, sistema corsi. Grazie a Francesca Andresciani siamo riusciti a creare un sistema corsi. Il sistema corsi all'interno di Blender Italia attualmente sono corsi gratuiti, ci tengo a dirlo, Francesco si è messo a disposizione e ha tirato su questi due corsi. Abbiamo un corso di base per conoscere Blender, quindi gli utenti si possono, chiaramente registrandosi al sito, si possono linkare al corso di base per fare un esempio. È un corso fatto a step, ci sono tutta una serie di video da vedere, intervallati da dei test. Questi test, alla fine il cumulo di questi test, permette all'utente che ha fatto tutto l'intero corso, permette di avere un attestato da parte di Francesco Andresciani che è un trainer certificato Blender Foundation. Ok? Ma ecco, chiaramente quello che è il nostro scopo è quello di aver formato un amico che in community possa quindi aver avuto da parte di Blender Italia un profitto, d'accordo? quindi un guadagno personale. Bene, nasce quest'anno l'associazione Blender Italia, quindi questo cosa permette? Cioè l'aver fatto nascere l'associazione cosa ci ha permesso? Anzitutto di avere la figura dell'associato. L'associato è una persona che come in tutte le associazioni ha un potere decisionale, d'accordo? Quindi non sto lì a spiegare come funziona l'associazione, però gli associati che sono al pari di tutti, sono tutti uguali, all'interno delle dinamiche associative hanno la possibilità di partecipare concretamente a quelli che sono gli sviluppi di Blender Italia, d'accordo? Convenzioni. Chiaramente avendo l'associazione abbiamo più possibilità di parlare con terzi per avere delle convenzioni. Già alcune convenzioni sono arrivate, questo ci fa molto piacere e altre ne arriveranno. Qui in sede di Amsterdam sono riuscito a parlare con altri brand per avere delle convenzioni per i soci e c'è stata una situazione abbastanza favorevole. Questione. A livello associativo l'associazione chiaramente che prevede una quota associativa per legge che permette chiaramente a noi dell'associazione, a tutti quanti gli associati permette di far crescere Blender Italia, cosa fa? Il concetto di associazione cosa permette? Di avere maggiore coesione, perché effettivamente chi si assogia compie un gesto, quindi c'è l'adesione e quindi automaticamente gli associati che stanno all'interno di Blender Italia hanno una visione leggermente diversa, diciamo, dal solo iscritto al sito. Perché? Perché chiaramente chi si iscrive sul sito potrebbe essere semplicemente di passaggio, magari prende quello che gli interessa, magari guarda così di sfuggita per vedere che cos'è Blender Italia, mosso dalla curiosità e poi potrebbe abbandonare Blender Italia e non tornare mai più. L'associato invece chiaramente però vi ragioni ci dà una continuità. All'interno di Blender Italia come sito, parliamo, come struttura sito c'è una parte dedicata agli associati, sono dei sistemi dedicati agli associati, ad esempio la chat che quindi permette di connettere direttamente i soci tra di loro e vi assicuro personalmente che è un sistema che funziona perché permette di dibattere alcune dinamiche ed essere molto molto più veloci. Non ultimo e non meno importante l'entità fiscale, abbiamo deciso di fare l'associazione perché ci serve entità fiscale, perché abbiamo come Blender Italia delle idee che ci proiettano in futuro e con l'entità fiscale ci permettono di prendere delle decisioni, quindi delle decisioni anche economiche che fanno muovere dei discorsi economici, è impossibile farli se non c'è un'entità fiscale. Bene, grazie al discorso dell'associazione una delle cose che stiamo facendo con l'associazione è quello di accreditare i professionisti. Molto spesso mi dicono sì, però io adesso sono bravo, stare magari in un ambiente come quello di Blender Italia dove ci sono tanti che vogliono imparare, che sono meno bravi di me, mi porta. Allora, è stato fatto, stiamo portando avanti un progetto per permettere a tutte quelle che sono le figure importanti in Blender Italia, quindi dal nuovo che sta cercando di imparare Blender a quello che è più navigato, che Blender lo conosce benissimo e che già magari ci lavora. Stiamo cercando di trovare una soluzione, una via di mezzo per permettere a tutti e due di coesistere all'interno di Blender Italia come strumento sito. Come stiamo iniziando a fare questo tipo di discorso? innanzitutto creando delle differenze ovvie, senza nulla togliere a nessuno. Una cosa importante per noi è il badge che viene assegnato alla persona. Come spiegato l'anno scorso, Blender Italia è fatta chiaramente di utenti, di persone, di amici. Queste persone all'interno di Blender Italia hanno un profilo, questo profilo all'interno del profilo ci sono tutti i dati, è una sorta di bietto da visita, ci sono tutti i dati della persona, c'è il portfolio, quindi tutti quanti possono andare a vedere la persona, direttamente dal profilo si può andare a contattarla, eccetera, eccetera, eccetera. I badge che cosa ci dicono? Che questo amico, questo utente è un professionista accreditato, chiaramente accreditato da chi? Da noi di Blender Italia. Perché? Perché magari sicuramente deve essere associato, perché l'essere associato ci permette di conoscerlo bene, quindi sapere se effettivamente è un professionista, d'accordo? Eh, tanti, tanti, tanti lo sono e questo mi fa piacere, mi fa piacere che siano rimasti in Blender Italia, siano in Blender Italia, ma che soprattutto credano in questa realtà, che ricordo essere una realtà di, adesso il 4 di ottobre ha fatto 15 anni, quindi non è una realtà che è nata ieri, ma è una realtà che si porta avanti già da tantissimo tempo. Bene, le aziende. Abbiamo cambiato all'interno di Blender Italia quelli che erano i profili standard, abbiamo arricchito la parte dei profili e abbiamo inserito delle voci, d'accordo? Quindi per farvi degli esempi, se sono un professionista e ho un'azienda posso mettere, posso creare un profilo aziendale, posso creare una persona fisica, abbiamo aggiunto dei campi per far sapere se abbiamo possibilità di fatturare o meno, se siamo intenzionati a lavorare oppure no, quindi se io sono in Blender Italia semplicemente come persona che sta lì perché piace Blender Italia, piace imparare, ogni tanto si va a prendere il tutorial, ogni tanto va a prendere l'informazione, queste cose qui, oppure sono un'azienda, che fatturo, che lavoro in remoto o nella mia città o in giro per l'Italia, ma allo stare assieme, quindi aziende e professionisti o non professionisti permette che cosa? Il dialogo tra queste figure. Quindi l'azienda che è in Blender Italia può contattare direttamente i professionisti che sono in Blender Italia semplicemente andando nel profilo, guardando il profilo di questa persona, guardando i lavori che sviluppa, d'accordo? E lo può contattare direttamente, viceversa il professionista può contattare l'azienda. L'associazione mantiene il Blender Magazine Italia. Il Blender Magazine Italia attualmente è arrivato al numero 20 che speriamo esca a breve ed è uno dei progetti con la nascita dell'associazione è stato proprio quello di includere all'interno dello statuto associativo, è stato proprio quello del mantenimento della rivista. Perché? Perché negli ultimi anni c'è stato un calo repentino dell'uso della community Blender Italia per diverse ragioni e abbiamo rischiato di perdere questa stupenda realtà che va avanti dal 2008. Con la nascita dell'associazione abbiamo inserito, inglobato la gestione del magazine all'interno dell'associazione in maniera tale che tutto tramite l'associazione potrà sempre andare avanti. Blender Italia non si deve assolutamente fermare. Questo è uno scopo che noi abbiamo. Da 2015 ad oggi, grazie a un lavoro di staff, grazie a tutta una serie di ragionamenti che abbiamo fatto, siamo riusciti a fare impennare nuovamente i numeri verso l'alto. Abbiamo quadruplicato, lo posso dire con serenità, con i dati analitici alla mano, abbiamo quadruplicato gli accessi, questo non è poco. Abbiamo sensazione di un cambiamento in Italia. Vediamo che ci sono dei professionisti che si avvicinano a Blender Italia passando da un software a Blender, da X software a Blender. Vediamo che c'è interesse, vediamo si muove Blender Italia come si sta muovendo Blender a livello mondiale. C'è un interesse verso Blender in Italia, benché sia comunque un territorio abbastanza complicato, quello italiano. Bene, bene, bene. Ho il piacere di annunciarvi che con Blender Italia stiamo organizzando, ormai siamo nelle fasi finali, è una certezza, vi posso dire una certezza, la conferenza italiana, va bene, che sarà il 10 marzo del 2018. Abbiamo scelto come location abbiamo scelto Foligno. Presto sarà disponibile la pagina per l'iscrizione all'evento, tutti quanti i dettagli della location e quant'altro. Mi hanno detto e ribadito anche quest'anno di dare libertà a tutti quanti i presenti di poter parlare. L'anno scorso il mio intervento è stato massivo, ho parlato solo io, era la prima volta che venivo ad Amsterdam, tenevo a portare Blender Italia, a spiegare cos'era Blender Italia e a spiegare soprattutto quelli che sono gli strumenti utilizzati dalla community, che è sito e quant'altro. Quest'anno chiaramente come i futuri anni invece dobbiamo parlare, perché chiaramente noi siamo adesso in questa sala, siamo italiani, magari molti di voi non conoscevano Blender Italia, altri sì, l'anno scorso erano presenti amici che hanno visto il mio primo intervento, quest'anno questo nuovo intervento, ogni anno, nei limiti è possibile, cercheremo di essere presenti come chiaramente community italiana qui nella sede della conferenza. Bene, a domande ragazzi? E non? Ok, io come community italiano ho bisogno di chiaramente di avere dei feedback da parte vostra in senso generale, perché chiaramente io posso personalmente mettermi lì a creare, a cercare di sviluppare dei sistemi per fare funzionare in senso generale Blender Italia. Parliamo di Blender Italia, non concentratevi solo sul sistema sito, perché il sistema sito è uno strumento che noi utilizziamo, però è lo strumento principale, quindi da questo strumento potrebbe essere qualsiasi altra cosa, vi ripeto, noi abbiamo scelto il sistema sito perché è customizzabile, lo possiamo cambiare in qualsiasi modo. Questo cosa vuol dire? Questo chiaramente vuol dire che io sono lì, lavoro sul sito, implemento quella X cosa che penso possa servire per migliorare i rapporti, migliorare la visibilità dell'utente verso il mondo anche commerciale, vedere di migliorare, che ne so, vi faccio un altro esempio, il portfolio in maniera tale che si possa possesse sempre più di impatto, però è chiaro che un sistema funziona se poi riusciamo a renderlo migliore. Renderlo migliore significa necessariamente dialogare, quindi io devo essere contattato, ho bisogno che qualcuno mi dica quello che potrebbe essere meglio una cosa rispetto a un'altra. Questo per noi è fondamentale. Con me lavora uno staff, ci sono architetti, vi ricordo che all'interno di Blender Italia c'è praticamente una parte dedicata all'architettura. Un attimo accedo al sito così vediamo alcune... vi faccio vedere in anteprima il sito, magari non l'avete visto. e vediamo un pochettino... ok... ok... questo è il sito che si presenta quando non siamo logati, va bene? Quindi ci sono delle informazioni massive sull'uso di Blender, cosa è Blender in senso generale, dove scaricarlo, le solite cose. Abbiamo una pagina per gli utenti per far vedere tutti quelli che sono i lavori realizzati in generale con Blender. Adesso c'è un problema di internet, caricherebbero tutti quanti i corti realizzati con Blender. Abbiamo la registrazione, la possibilità di vedere la mappa dei Blenderisti, questo è un altro esempio. Abbiamo implementato all'interno del sito la mappa dei Blenderisti. Scusate che non so neanche l'email e io inserisco all'interno della mappa l'amico che mi fa richiesta. D'accordo? Chiaramente l'amico deve essere... l'utente deve essere registrato in maniera tale da... su Blender Italia, in maniera tale da allincare la pecetta sulla mappa direttamente al profilo. Perché è importante il profilo, perché il profilo rappresenta la persona. Chiaramente all'interno del profilo, prendiamo un altro profilo per esempio, all'interno del profilo ci sono tante informazioni. Sì, sì, sì. Un attimo, un attimo. Su questa cosa qua in causa. Quindi se uno è un Blenderista italiano che non abita in Italia, come nel mio caso, è quello, non vedo le iconette di qualcuno che... perché tu puoi avere gente che magari, come me, per fare un esempio, che io so a Parigi, però seguo molto la comunità italiana da sempre, perché sono italiano, però fisicamente posso non essere in Italia. Guarda, allora, il discorso è questo. Sono italiano, lavoro con Blender, però vivo all'estero. Non è assolutamente un problema. Qua, chiaramente, in primo impatto si vede l'Italia, però abbiamo altri amici che si trovano in giro per il mondo. Cioè, mappa... sì, sì, sì. No, l'immagine, chiaramente, sei stato ingannato perché l'immagine ti punta sull'Italia. Chiaramente, allargando, chiaramente, abbiamo amici italiani che lavorano all'estero, ad esempio Davide Prestino, che ricordo, lavora al progetto Capitan Bon. Ok? Eh, questo è il profilo di Davide, per farvi un esempio. È un italiano che lavora con Blender e lavora all'estero. Benvenga, non c'è assolutamente il suo problema. Questo è per fare un esempio. Quindi, sì, dimmi. Io volevo dire, cioè, a me mi sembra tutto molto buono. Deve essere chiaro quello che vuole fare sta Blender Italia, no? Perché alcuni di noi la guardano un po', dicono, ma Alessandro si è messo in testa un'idea, che cosa sta combinando, eccetera. Allora, secondo me, noi, come comunità italiana, abbiamo bisogno di conoscerci tra di noi, diffondere un po' più Blender dentro l'Italia e fare capire che è uno strumento assolutamente professionale, non solo, come è giusto anche che sia uno strumento per obbisti, ma è anche uno strumento professionale, e fare un po' da volano per poi quello che è comunque la comunità globale di Blender, perché alla fine i contenuti buoni, le novità, le cose le trovi nella comunità globale, no? Allora, secondo me, è bellissimo come è organizzato, nel senso che abbiamo un minimo di social, un massimo di social con tanto sforzo, quindi profili, contatti, Facebook, eccetera. Poi abbiamo tutorial in italiano, materiale in italiano, contenuti in italiano di aggiornamento e di cose del genere, se riusciamo a realizzare quest'occasione di un incontro annuale può essere una cosa anche molto divertente, molto bella, perché sapete che quando uno si incontra mangia, cena, beve, si creano tante relazioni e tante idee, e quindi secondo me da lì si può fare qualcosa. È importante capire che non siamo antagonisti in sostituzione di, supplettivi di, ma semplicemente uno strumento che vuole girare assieme con tutti gli altri, almeno così come lo vedo io, io penso che questo sia il sentire di tutti, voi che ne pensate? Bene. Chiaramente io mi aspetto, in senso generale, grande partecipazione da parte degli italiani. In questo avviene, magari non con alcuni presenti, ma questo avviene. Vi posso dire che da 2005 a oggi abbiamo avuto 2000 iscritti sul sito, non è Facebook, è un sito internet. Abbiamo avuto dal 2015 a oggi 2000 iscritti, non sono pochi. probabilmente c'è tanta gente che è entrata, ha guardato e magari è andata via, non è un problema. Nella massa invece vi posso dire che abbiamo raggiunto tanta gente che poi è rimasta con noi. E si sta formando, ce lo dice anche il corso online di Francesca Andresciani, con gli iscritti. Si stanno formando, è un corso fatto, vi faccio un esempio, è un corso fatto dall'A alla Z, e la gente lo sta seguendo e si stanno formando. Questo è il nostro interesse. Una cosa alla quale tengo, grazie Giovanni per l'intervento, una cosa alla quale tengo a dirvi, allora, in Blender Italia io personalmente ho deciso di non mettere pubblicità, per un motivo. Non voglio che passi il messaggio che Blender Italia sia seguita o cresciuta o pasciuta per un discorso di convenienza. No, ho levato la pubblicità, non ci sono adeworks, non ci sono pubblicità, se non eventuali piccole pubblicità di convenzioni fatte per gli associati, basta, solo questo. Perché non deve assolutamente passare il messaggio che mi do da fare io insieme ai ragazzi dello staff perché ci deve essere un lucro, è uno strumento. Io sono qui perché mi piace stare in community, perché ho imparato, conoscendo le persone, interfacciandomi con le persone, ho imparato, sono cresciuto. E so che funziona, l'ho provato sulla mia pelle, quindi va bene così. Io giro intorno al sito, adesso vi faccio vedere un pochettino tutte quelle che sono le cose, e vi prego di fermarmi in qualsiasi istante se vi viene... Avete fame? Guarda, ho dei tempi, ho un po' di tempo e ne approfitto, guarda. Va bene? Va bene, giusto così. Il login, quando si fa il login al sito... Cosa ho scelto per il sito? Ho scelto, ho trasformato, come ho detto l'anno scorso, lo dico pure a voi, per quelli che non erano presenti magari l'anno scorso e non hanno avuto modo di vedere il filmato. Che cosa ho scelto? Ho scelto di rendere la pagina da logato, la pagina, la dashboard da logato, molto simile a quella di Facebook, in maniera tale da non creare crisi, d'accordo? Chi lascia Facebook. Ok, quindi è molto semplice, si entra, c'è la dashboard di tutto quello che avviene in senso generale all'interno del sito e si può raggiungere così subito le varie informazioni che avvengono pieno piano. Tempo addietro, Blender Italia si basava solo su un forum, che è rimasto il perno principale di tutto quanto a Blender Italia, perché è il forum che traina tutto. Un forum che, i forum in senso generale, si dice siano morti, non siano più, diciamo, che siano ormai destinati a scomparire, vi posso dire che non è assolutamente così, anzi, io posso dire che in senso Facebook, come Facebook per fare un esempio, i social in generale non sono più, diciamo, graditi, infatti all'interno dei social si cominciano a creare i gruppi, quindi gruppi di persone che parlano di X cosa, parlare in senso generale di tutto, cosa faccio, non si fa quasi più. Il forum cosa permette? Il forum permette di fissare, ok? Una cosa importante che è in Blender Italia è proprio quello di conservare l'informazione, cioè io faccio una domanda, do una risposta, questa domanda e questa risposta o più risposte vengono conservate, così il Giovanni, l'Umberto, il Francesco, che viene dopo, può accedere all'informazione. Sui social questo non avviene, per questo noi siamo resti in un certo senso ad utilizzare i social, cioè li utilizziamo solo per ridondare quelle che sono le informazioni del forum o comunque del sito. Chiaramente i social raggiungono tantissime persone, quindi per, siccome a noi piace divulgare quello che fanno gli utenti, perché noi vogliamo dare visibilità agli utenti, a quelli bravi che si danno da fare, d'accordo? E' tutto ricordo, tutto in maniera gratuita, quindi per dare visibilità necessariamente dobbiamo utilizzare i social, e li usiamo, d'accordo? Ma il social non è lo strumento principale, per noi lo strumento principale è il sito, fissare i contenuti perché debbano essere a disposizione di tutti, perché siano a disposizione di tutti, va bene? C'è la possibilità di vedere la galleria dei lavori, vi posso dire che da quando io ho preso Blender Italia nel 2015, ad oggi c'è stato un incremento delle visite, c'è stato un incremento delle permanenze sul sito, ma c'è stato anche un incremento della qualità. Non so se deriva dal fatto che sia venuta gente più brava o quelli che già c'erano sono diventati più bravi. Io me lo pongo come punto interrogativo. Io personalmente vedo che tanta gente sta veramente aumentando il livello qualitativo dei propri lavori, e questo vi assicuro che è una soddisfazione per me, per lo staff di Blender Italia, ma sicuramente la cosa più importante è che sia soddisfatto l'utente, perché poi ha un riscontro, e questo è importante, ha un riscontro da parte nostra, non dello staff, ma da parte nostra in senso molto generale. Ci sono tanti bei lavori, chiaramente tutti possono vedere per esempio un lavoro, commentare il lavoro, mettere i classici like, c'è tutte quelle che sono le cose previste dai social in senso generale. Mi guardo in giro, vedo quelle che sono magari anche le grafiche più accattivanti, delle cose che piacciono, le cose di tendenza, con grande mia difficoltà, non essendo webmaster, cerco di steal, di rubare, di copiare, e per rendere sempre più gradevole Blender Italia. Ecco perché per questo motivo migliora un po' tutto. Va bene, appunti, appunti, datemi qualche, qualche, sì. Un'osservazione sulla galleria. Allora, purtroppo, vabbè, cerco di parlare, di essere abbastanza schietto. I gruppi di nicchia come noi italiani, no, vedendo la galleria mi viene da pensare, è molto simile a quella di ArtStation, che al giorno d'oggi, se sei un 3D artist e non sei su ArtStation, se vuoi fare il freelance non sei quasi nessuno, perché diventa difficile, non può farsi vedere. Giusto per il fatto, perché in Italia c'è l'1% dei lavori per i CG artist, nel resto del mondo c'è il 99%, all'incirca. Quindi cerchi di essere internazionale il più possibile. Mi viene da pensare, visto che è molto simile anche per il fatto di poter commentare, dare i like, è possibile fare un link direttamente a ArtStation, quindi permettere magari all'utente di non doversi sforzare ad avere il doppio profilo o poter sfruttare, cioè questo potrebbe portare anche dentro quelli che dicono ah no, oddio, io non ho una nicchia, non mi voglio buttare, io voglio fare l'international, voglio indossare su ArtStation, potrebbe essere un punto a favore appunto. Io sono il primo, a parte che non ho neanche profilo ArtStation, però sono il primo che se devo fare le cose due volte già mi passa la voglia, magari penso quella che mi dà... Ok, sì, abbiamo pensato spesso a link a piattaforme che già esistono, la vedo dura, non ti do chiaramente dei tempi di realizzazione di queste cose qua, anche perché parliamo di brand esterni, non sono italiani, quindi tutto diventa più difficile il dialogo con queste persone. Sì, 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 no, ci... Ah sì, scusa, scusa, no, hai ragione. In passato questo discorso di link si poteva fare con CZ Society, forse? Ci lavoro su, ti faccio sapere, sicuramente è uno dei task che mi sono già segnato, ci lavoro su, lo vedrai poi effettivamente nella realtà, in produzione, quando... Così avrò un profilo vuoto come quello di ArtStation. Vabbè, non è un problema, non è un problema. Chiaramente, allora, molti sono portati a pensare che se sto su Blender Italia devo produrre, devo starci, allora no, no. Allora, non è obbligatorio stare su Blender Italia, è postare o scrivere o rispondere, no. Allora, c'è chi lo fa, chi piace farlo, se tu vuoi stare in Blender Italia, avere solo il tuo profilo come obiettivo da visita e utilizzarlo, quindi come contenitore italiano, perché sono italiano e quindi lo utilizzo come contenitore italiano, magari un'azienda sta proprio cercando me e mi contatta pure, va benissimo, non è assolutamente nessun problema, ok? Questo è in risposta a tante domande che mi dicono, sì, ma io posto poco, oppure... Non è un problema, assolutamente, non è questo. Sì, se passi il microfono... Ecco, per esempio, io non posto niente, però ci sono, quindi... Va bene. È esattamente il caso. Questo mi fa piacere. Però non posto, ma non faccio login anche da tanto tempo, per quanto... Cioè, non ho tempo in sé. La domanda è questa, però non so se è pertinente. Esiste qualche spazio curato, ad esempio da te o da qualcuno del tuo team, che fa publish di notizia alla Blender Nation? Cioè, c'è qualcosa del genere? Non lo so, poi c'è la domanda dopo. Sì, stiamo lavorando su questo. Allora, 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 Ton. Mamma mia. Stiamo... Allora, quando ho parlato di miglioramento, in senso generale, della grafica del sito, un miglioramento è stato fatto sicuramente al menu del sito, ok? Guardando in alto abbiamo community, quindi raggiungiamo velocemente gli utenti, ok? Adesso arrivo alla tua domanda, va bene? Possiamo tramite, questi sono gli ultimi 100 utenti collegati, tramite ricerca profili, per esempio andare a ricercare un profilo, no? Poi c'è associazione, mappa dei Blenderisti, le news e i progetti, ok? Formazione, corsi, proposte formative. Questo è per fare un esempio. Proposte formative, diciamo, non ha avuto il successo che io speravo. Quindi, anche su... In risposta ad altri utenti che l'hanno chiesto, vorrei creare un sistema tipo Blender Today, ok? Quindi lo faremo. È chiaro che se nessuno posta, il sistema è vuoto. Ma Blender Today già di per sé non mi sembra che acchiappi così tanto quello originale, quindi forse proprio quell'esempio lì non è. Blender Nation magari di più, però mi chiedevo se qualcuno di voi facesse da editor per una serie di notizie, ho visto la parte news, non so come funziona. La controdomanda era, su Blender Nation un casino di gente mette cose, cioè chiede tramite una form, poi Bart si occupa di fare, di scegliere cosa mettere, e ci mette anche un po' di tempo. Però ogni tanto Bart prende le notizie più importanti che non sono visibili e quando gli interessa qualcosa mette lui di sua sponte. Voi fate ricerca anche di quello che c'è in Italia come panorama attuale, poi pubblicate anche mini notizie, link, eccetera, oppure aspettate che qualcuno vi scriva e vi dica posso comparire? No, 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 c'è una ricerca anche delle varie news, su news di Blender Italia chiaramente abbiamo tutta una serie di news che vengono scritte da Riccardo Giovanetti e non solo da lui, scusa, qualcosa l'ha posto anch'io e qualcun altro. Chiaramente siamo pochi, il lavoro ce n'è veramente tanto, quindi andare a ricercare la notizia, cioè servirebbe una persona che fa solo quello. E' chiaro che una chiamata da parte nostra di Blender Italia a tutta la comunità è quella della partecipazione, quindi ecco se Vincenzo, se Stefano, se Claudio mi manda la notizia d'accordo, come in Blender Nation viene chiaramente valutata e la inseriamo all'interno di notizie, magari di news di Blender Italia. E' chiaro che questi sono tutti i sistemi che sono stati impiantati, sono migliorati, ma tanto lavoro c'è da fare ancora, di questo ne siamo consapevoli. Per migliorare, per avere uno strumento che funziona, considerate che un sito come questo difficilmente lo trovate in giro, strutturato come siamo riusciti a farlo. Ed è un grande sistema, è un bel sistema, lo vogliamo migliorare per tutti, per noi, per voi, per tutta la comunità. Lavoriamoci su, ecco, questo è il senso. Una cosa che secondo me funziona abbastanza velocemente per la parte news è quella di avere degli articoli lunghetti che ti spiegano ben benino la notizia o quello che sta accadendo, e avere anche però gli articoli stile Twitter in cui c'è, ci sono due righe di descrizione e l'immagine che vuoi vedere, perché tu quello hai bisogno. Oppure il video della piccola notizia che viene dall'estero, descritto in due parole in italiano, poi chi vuole approfondisce, perché facciamo anche l'incovista Blender 279 e questo quest'altro. Esatto. Non so se tu hai visto il sistema come funziona qui in Blender Italia, fammi, te lo chiedo veramente gentilmente, fammi sapere se un sistema come quello che stiamo utilizzando noi potrebbe, è più o meno vicino a quello che stai chiedendo tu, oppure siamo completamente fuori, esatto, guardaci, mandami un'email adminblender.it e qualsiasi cosa, se no nella parte forum c'è feedback, vi ricordo nella parte forum c'è feedback, forum lo trovate in alto, forum, c'è discussioni recenti per vedere tutto quello che è successo di recente, ma poi ci sono tutte quante le varie categorie, tra cui tutorial, supporto e quant'altro. Su feedback potete andare a scrivere tutto quello che secondo voi può essere cambiato, ma mi potete contattare anche direttamente, non è un problema. Se lo scrivete sul forum per me è meglio, perché per me è una sorta di, mi permette di schedulare tutti quelli che sono i lavori da fare, quindi io prendo, quando ho tempo, riesco ad avere del tempo da dedicare, mi prendo tutte quante queste voci e me le lavoro, dove riesco ad arrivare bene, se no faccio i salti mortali, se no contatto qualcuno, vediamo come si può fare. Per fortuna nella nostra comunità di Blender Italia ci sono programmatori, c'è un po' di tutto, quindi riesco, riesco, perché se no non saremmo arrivati a questo punto, riesco a destreggiarmi, va bene? Prisco. Salve. Allora, innanzitutto mi permetto di rispondere alla domanda che ha detto lui, circa la condivisione dei dati della galleria di un sito rispetto all'altro. Se il sito, diciamo, principale, in questo caso l'altro, non offre una chiave tipo API per l'importazione automatica dei contenuti, difficilmente si possa fare, quindi in questo caso c'è il doppio caricamento sui due siti. E poi la cosa che volevo dire ad Alessandro, un suggerimento, magari, ecco, approfittare di una situazione come questa di Amsterdam per mostrare anche a persone non solo italiane il lavoro che l'associazione sta facendo, perché come giustamente ha detto lui, i lavori di CG in Italia sono l'1%, ma abbiamo visto tramite il sito, tramite la comunità, che c'è del personale formato in Italia che può lavorare, quindi magari già aprendoci, non solo con l'italiano, anche con l'inglese, e eventualmente a persone interessate a sapere che cosa c'è in Italia, potrebbe farci massimizzare questa esperienza, perché altrimenti, se io voglio sapere cosa fa Blender Italia, vengo a Foligno, per esempio, però possiamo, secondo me c'è spazio, sì, c'è proprio spazio, c'è possibilità di massimizzare questa esperienza per Blender Italia, approfittare di questa conferenza olandese, insomma. Sì, come stavo dicendo già a un amico italiano fuori, predente, uno degli scopi che abbiamo per il futuro, perché noi oggi siamo venuti a parlare di presente e di immediato futuro con la conferenza nazionale, ma voi dovete immaginare che la mia mente, per quanto riguarda Blender Italia, si proietta davvero in anni avanti, d'accordo? Perché i numeri mi dicono che funziona, sta funzionando, e quindi so che sto andando, stiamo andando nella direzione giusta. Una delle cose che vorrei fare nel futuro, chiaramente qual è? Io mi formo in Italia, d'accordo? Magari sono giovane, magari non so bene l'inglese, ho comunque magari anche una certa età come me, del resto non conosco l'inglese, mi dedico a Blender, con il supporto della comunità italiana, mi dedico a Blender in Italia, d'accordo? Quindi un altro step, quale sarebbe? Quello di, una volta che tu hai raggiunto un certo step, esatto, se riesci a lavorare in Italia, bene, ma non puoi pensare di formarti solo per il territorio italiano, che ripeto, è purtroppo, ahimè, oggi, un territorio un po' difficile, d'accordo? Bisogna aprirsi a tutti, anche perché fare community in Italia è molto bello, ma fare community a livello mondiale, penso che sia ancora più bello, no? e quindi lavoreremo in futuro anche per riuscire a collegare Blender Italia, a collocare community italiana, come già sta avvenendo, all'interno della community internazionale. Quello che sto facendo io da tre anni, cioè io ho portato la prima volta del 2015 Blender Italia qui ad Amsterdam, perché? Per prendere la comunità italiana e inserirla nel tessuto internazionale, perché qua siamo, stiamo parlando oggi qua ad Amsterdam a livello internazionale, quindi l'anno scorso ho spiegato cos'è Blender Italia, eccetera, oggi sto parlando del lavoro che è stato sviluppato quest'anno, con la nascita dell'associazione, che per noi è una cosa importantissima, d'accordo? Del lavoro che sta facendo tutto lo staff in senso generale, eccetera, eccetera, eccetera. Parliamo di futuro, ok? Lo facciamo da qua, da Amsterdam, va bene? Quindi questo è un primo approccio per l'internazionale, ok? Chiaramente tanto verrà sviluppato, Prisco, in questo senso. Chiaramente tu mi sarai vicino, perché tu veramente sei internazionale, allora lo possiamo fare, va bene? Tu come tanti altri italiani. Valerio, dimmi. Non sono dimenticato. Ok. Io nel frattempo giro, ok? Ce l'ho, ce l'ho, è arrivata. No, era molto simile al concetto di prima, sempre molto legato, anche se non lo so, nel mondo dei freelance. Quello che vedo, allora, innanzitutto, poi sembra che vado sempre contro, siamo già incontrati l'anno scorso, sono stati dei miglioramenti sul sito, davvero complimenti, tutta la zona delle aziende, mi piace davvero tanto. Quello che però mi immagino, adesso parlo fuori dalla community, un po' più lato lavorativo, è che chi arriva sulla piattaforma per cercare artisti, non lo fa tramite il canale Blender, lo fa tramite il canale automotive, architettura, prodotto interni, esterni e così via. Non so se ci sia una soluzione, quello che ti dico che potrebbe essere magari uno spunto è cercare sul lato aziende, adesso non c'è una sezione lavori, però ecco, quello che vedo delle aziende è molto simile a Blender Network, come concetto, che ti dico personalmente, non mi piace per lo stesso motivo, che è ok che siamo internazionali, però tanto uno non va a cercare l'artista solo perché utilizza Blender, forse il grande studio che ha la sua pipeline, allora dice, ho per forza bisogno di un blenderista, lo vado a pescare lì, ma l'architetto che vuole il rendering, o qualsiasi altra società che ha bisogno di un determinato lavoro, va attraverso un canale che lo porta tramite. Quindi questo imbuto, diciamo, di Blender vincola un pochino. È chiaro, il lavoro non è facile, devo ammettere che non è facile, non è facile mettere il professionista con chi sta imparando, non è facile mettere chi lavora con Blender, con chi invece lo utilizza per scopi artistici, mettere insieme tutta questa gente non è facile, ma non è facile solo per una questione. Tempo da dedicare allo strumento, il concetto di funzionamento, come riuscire a farlo e tutte queste cose qua. Ci stiamo lavorando, solo che siamo giustamente lenti per mille ragioni, però lo scopo lo conosciamo bene, uno di questi scopi è cercare di prendere il professionista e farlo sentire il professionista all'interno di Blender Italia, prendere chi sta imparando e farlo sentire, fra virgolette, studente, è un termine improprio, ma più o meno giusto per capirci, o di prendere l'azienda, dal non azienda e tutte queste cose qua. Vuoi avere una domanda? Sì, non è una domanda, è una considerazione rispetto appunto cosa fa un professionista in siti come questi, cosa fa un amatore senza sminuire in siti come questi. Io vedo che generalmente, appunto vedo in molti siti come anche in questo, la sezione i contest, quindi chi partecipa ai contest, gente che c'è tempo di fare il contest, poi arriva, ti mette un'immagine bellissima, viene commentata, bravo, ok. Secondo me il professionista, oppure il bisogno, la cosa che vorrei io in un sito è una sezione non contest, una sezione a parte risoluzione di problemi. Io pongo un problema e voglio sapere gli altri come risolvono al meglio quel problema. Metti che una volta al mese un professionista ti dice ah io ho un problema a fare questa cosa qua, vediamo nella comunità chi lo risolve o chi lo risolve in modo più efficiente. Non lo so se hai un'idea interessante per io da professionista, al contest non partecipo perché non ho tempo. Mettere un'immagine finita che ho fatto, che tutti mi possono dire bravo, però non gli ho detto come l'ho fatto, non ho detto come ho risolto quel problema specifico di quella immagine. Secondo me una sezione tipo problem solving, una cosa più professionale, potrebbe essere una chiave. Allora, abbiamo veramente cinque minuti, vorrei rispondere alla domanda che è molto interessante. Allora, il discorso dei contest, chiaramente ai contest non partecipano tutti, è chiaro, il contest partecipa a chi ha tempo, eccetera. Il contest noi lo vediamo come un tenersi in forma, diciamo fra virgolette. Il contest permette alle persone di cominciare ad acquisire quella mentalità del mondo del lavoro. Io ti do un task, lo devi portare avanti. Se non è bello, perché viene valutato, ti devi dare da fare. Quindi, diciamo, è un pochettino quello che si sviluppa poi nel mondo del lavoro. Quindi, chi partecipa al contest lo fa quasi veramente, ve lo dico personalmente, anch'io faccio così. Quando ho bisogno di mantenermi in allenamento, il mio allenamento, la mia palestra è il contest. All'interno del contest, però, è individuale. Cioè, praticamente, allora, il contest, il contest come funziona? Il contest funziona nel forum. Quindi, io apro un topic nel forum e faccio i vari passaggi. Io personalmente faccio così. quindi, se voi andate a vedere i miei contest, la partecipazione ai miei contest, passo passo, cerco di spiegare tutto quello che può essere di interesse per qualcuno che vuole imparare con la tecnica. Poi magari c'è la domanda, la domanda, two minutes? Ok. Magari mi fa la domanda su quella determinata cosa e io magari faccio subito un mini tutorial, cinque slide, d'accordo? potete tranquillamente andare a vederlo. Ecco, creare una zona professionisti, la parola, è quello il punto nevralgico, la parola. Cioè, bisognerebbe creare, chiaramente, ci abbiamo pensato tante volte, una zona, una zona esterna per i professionisti dove solo professionisti possano condividere, esatto, quindi domande, dubbi, incertezze, da professionisti. ma in realtà c'è che... Il non professionista molte volte è lui che ti trova quella situazione, non deve essere sezione. Sì, sì, sì. Questo c'è, noi l'abbiamo in Blender Italia, all'interno del forum c'è proprio una sezione, una sezione di supporto, è proprio una sezione dedicata al supporto, quindi al supporto hardware, molto simile a quella di Blender Artist, quindi si possono fare delle domande e viene data una risposta. Sopra c'è il... dà il ticket aperto, poi viene chiuso, quindi in qualsiasi momento le persone possono sapere quando questo ticket è stato aperto, chiuso, e tutto il resto. Una domanda veloce? Ah, ok. Ok. Sì, vai. Sì, ok. Sì. Praticamente Sean Kennedy, quello di VFX, Open VFX, aveva chiesto su Twitter, a modo di, quello che chiedeva Michele, qualcuno mi sa risolvere il problema di distruggere dei tessuti tirandolo per utilizzarlo, e sono arrivato una serie di risposte, alcune buone, alcune buonissime, una eccellente, ma difficile da implementare, lui ha scelto la migliore, ci ha fatto un articolo, ha dato i credits, e questo è la vittoria di un contest su Twitter, praticamente. Forse era più verso questo. Mentre sul forum siamo tutti, cioè, è meno rewarding, e siamo, abbiamo tutti la stessa, siamo tutti sullo stesso piano, e diamo soluzioni condivise. Invece qui ognuno presenta quella che potrebbe essere la sua miglior soluzione, e chi vince, oppure chi presenta quella migliore, magari ha un po' più di rilevanza, ma non so se c'entrava, se era questo, però è un esempio che mi è venuto. Cerca OpenVFX e guarda l'ultimo articolo sullo strappare tessuti, Sean Kennedy. Vedi questa cosa qua, come ha fatto, e ti... È interessante, sì, 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 fare anche una cosa del genere non è una brutta idea, eh? Va bene? Signori, siamo fuori tempo, quindi fra un pochettino ci cacciano, quindi vi ringrazio tutti, vi ringrazio tutti per essere venuti e aver condiviso questa oretta con me, ok? Ciao, grazie. Grazie. Grazie.